ogni mattina un ospite di rilievo con noi oggi marco domeniconi ogni giorno marco domeniconi vi guida in un viaggio verso nuovi panorammi musicali oggi in console marco domeniconi vi accompagna la scoperta di suoni e ritmi raramente proposti altrove marco domeniconi la musica di marco domeniconi questa è la musica di marco domeniconi stiamo trasmettendo ora la musica di marco domeniconi la musica di marco domenico